Musica Ripartono i campionati regionali dell'eccellenza ad aprire le danze, le protagoniste di questo primo atto del campionato sono del Duca e classe Per il dopo Cassani i padroni di casa si sono affidati a Emiliano Ragazzini proveniente da un ciclo di sei anni all'Areno Sant'Alberto in promozione Mentre in casa classe dopo aver centrato la salvezza in extremis si è invece deciso di puntare su un grande ex bomber come Davide Succi Ma andiamo alle immagini, siamo subito al secondo minuto di gioco con il Del Duca che reclama un calcio di rigore per questo intervento su Simeoni Rivediamo anche dal replay per l'arbitro non c'era nulla, il tocco c'è, bisogna verificare ovviamente anche la posizione dell'attaccante ma le proteste non sono mancate Al diciassettesimo risponde il classe con la punizione, l'abbordato da fuori di Merzari deve smanacciare Casadei in calcio d'angolo Due minuti dopo al diciannovesimo ci prova ancora il Del Duca con questo colpo di testa dagli sviluppi di corner di Bertozzi Il pallone esce di poco Siamo al ventiquattresimo, una duplice chance per gli ospiti In primis ci prova il numero 10 Fogli e poi l'azione prosegue, è insistita, il recupero palla da parte del classe avviene nella metà campo del Duca Un'azione che vediamo proseguire, una classe che aumenta il pressing, giro palla sulla sinistra Ancora la squadra appunto ospite ci prova con Merzari, il tiro viene addirittura sporcato dal difensore e si supera in questo intervento ancora una volta Casadei quando viene chiamato in causa Al trentasettesimo sempre gli ospiti in questo caso con il numero 10 sulla sinistra con Fogli che cerca un uomo, la mette in mezzo Sul secondo palo il colpo di testa del numero 9 Santucci esce di pochissimo E un'altra chance proprio sulla finire del primo tempo al quarantatresimo Sulla sinistra il cross messo in mezzo e ancora una volta sulla volée di testa di Polidori È bravissimo Casadei a rispondere presente e salva ancora una volta i suoi dal vantaggio del classe Un vantaggio del classe però che arriva nel secondo tempo all'ottavo minuto di gioco Un pallone che viene tenuto vivo in questo caso dalla destra Il pallone è messo in mezzo e da lì Santucci non può sbagliare il numero 9 A pochi passi da Casadei incolpevoli in questo caso non poteva farci nulla Esulta il classe 2000 che porta in vantaggio il classe che ci riprova all'undicesimo Sempre dagli sviluppi di punizione, sempre con Merzari, Sibila la traversa Siamo al quindicesimo, risponde il del Duca dal calcio d'angolo, dalla destra Un pallone che viene messo in mezzo, non si arriva a nessuno Poi viene recuperato in questo modo dal numero 3 Rosti Un cross che si va a stampare sulla traversa, poteva essere la chance del pareggio Lo stesso Rosti però si renderà protagonista qualche minuto più tardi Siamo al ventesimo con questo bruttissimo intervento Che gli costa l'espulsione, tante le proteste per un intervento che poteva causare danni ben più gravi su Polidori L'arbitro non ha nemmeno esitato e quindi finisce anzitempo la partita di Rosti Che qualche minuto prima si era reso protagonista appunto della traversa Ma un del Duca che nonostante l'inferiorità ci prova ed ha una grandissima chance Al trentacinquesimo con Marouane che sbaglia dal dischetto del rigore Ultimi minuti di gioco, tutto il del Duca in avanti e il contropiede è inevitabile Il pallone viene servito al numero 10 Fogli che supera anche Casadei Attende un attimo e poi può appoggiare tranquillamente in rete Il gol del raddoppio del 2-0 del classe con i suoi due attaccanti Prima era stato Santucci e adesso è stato Fogli La marchio di Fabrica è lo stesso, entrambi sono classe 2000 Una partita nervosa anche sul finire tante le proteste Vediamo dell'inquadrato Mingozzi del numero 6 Che gli costano il secondo giallo Una partita dunque che finisce con un'altra espulsione per il del Duca Non ha tenuto i nervi tesi la squadra di casa Che dunque esce con le rossa rotte in questo primo confronto di eccellenza Una classe che nello scorso campionato proprio qui allo Sbrighi Aveva perso per 2-0 Ribalta il risultato esattamente con i gol di Santucci e Fogli